Giulia Dell'Elis e Andrea Damante si sono detti definitivamente addio. Solo qualche mese fa, la coppia più amata e seguita di uomini e donne aveva sconvolto tutti i loro numerosissimi fan annunciando la fine della loro storia d'amore. . Da allora si sono susseguiti vari avvistamenti, i due sono anche stati paparazzati insieme mentre si scambiavano tenere e fusioni in Sardegna, e in molti, parlavano di una riconciliazione. . A riaccendere i riflettori sulla vicenda, è stato proprio l'extronista che, stanco dei continui pettegolezzi, ha deciso di rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte che tra lui, e la giovane influencer romana è finita. . 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